Tutelare il pianeta è molto importante perché ci dà la possibilità di riconoscerci parte di esso. Questo è il primo step importante da fare per andare a salvare quello che è il nostro pianeta, quella che è la nostra casa, quella che è la natura. Tutto quello che abbiamo oggi ci è stato dato e ci è stato donato da quello che è il sistema più grande di cui tutti facciamo parte e che si chiama appunto natura. Ed è importante per noi oggi andare a salvaguardare quello che negli anni purtroppo stiamo quasi distruggendo. Ma come possiamo cambiare questo processo? Cercando di iniziare dalle piccole cose che noi facciamo quotidianamente. Quindi da quello che facciamo a casa, dalle scelte che facciamo, quindi prendere una volta in meno la macchina, l'utilizzo dell'acqua, fare la raccolta differenziata. Sono tutti piccoli processi che possiamo mettere in atto noi stessi nel nostro piccolo e metterci a disposizione di qualcosa di più grande, di quello che è il contesto, il contesto sociale ma soprattutto il contesto ambientale. Quindi partiamo da noi, da quello che possiamo fare quotidianamente per salvaguardare tutto quello che di bello e di grandioso ci è stato donato. E soprattutto andare a tutelare l'ambiente ci dà la possibilità anche di andare a tutelare gli animali, quindi tutte le specie in via d'estinzione, il problema della siccità che porta appunto alla morte di tante specie animali per disidratazione. Quindi è tutto un processo di cui noi nel nostro piccolo possiamo fare parte e per cui noi in prima persona possiamo fare qualcosa.